uno indiviso se ci penso se penso a quando l'ho scritto nel 2005 mi sembrano passati 200 anni io sono cambiato totalmente ho scritto altri libri libri forse diametralmente opposti a quello ad oggi però sono ancora convinto che un indiviso rimanga il mio romanzo più più maturo probabilmente perché l'ho scritto quando ero poco più di un bambino e non credo che la creatività per usare questa parola che non mi piace per niente una parola patogena uscita da un manuale di psicologia non credo che la creatività abbia a che fare con l'età anagrafica non credo che la scrittura abbia a che fare col tempo conosco scrittori che prima di aver letto libri importantissimi Proust, Dostoevsky, Manzoni, Filippo Rota hanno scritto romanzi bellissimi e dopo aver letto questi autori sembra quasi che siano rimasti irretiti dalla loro potenza e hanno quindi scritto opere minori e l'unica cosa che ricordo di quel periodo è che avevo intenzione di scrivere sì la storia di questi due gemelli attaccati un po' horror uno buono uno cattivo che dovevano convivere ma soprattutto io volevo scrivere un libro che non fosse normale io ho sempre detestato il normale il comune perciò volevo un libro che andasse un po' oltre l'arcobaleno diciamo che mi schiasse il sacro il profano ma soprattutto un libro che procedesse per immagini e non ho mai creduto nelle storie ho sempre creduto solo nelle immagini mi diceva una volta non è una storia nonostante il libro e dividesse molto piaceva tanto ad alcuni e piaceva per niente ad altri e io non capivo questa storia no perché per me esistono le immagini le immagini da sole sono autosufficienti d'altronde mentre invece le storie senza le immagini senza la necessità di evocarle non possono esistere non possono essere autosufficienti ricordo quel periodo ricordo l'intensità e la velocità con cui scrissi uno indiviso e credo che sia forse il romanzo che più somiglia al mio ultimo romanzo che è l'inconveniente di essere amati che è un romanzo che parla d'amore un romanzo che parla di provincia una storia pop con una lingua molto diversa eppure ai suoi momenti oscuri e soprattutto è il mio romanzo più acerbo è quello in questo senso speculare al primo è quello più ingenuo perché perché l'ho scritto che ormai ho 35 anni forse credo che la ragione sia questa e in mezzo ho scritto altri libri libri più ragionati nel caso del mio esordio e del mio ultimo romanzo davvero ho proceduto secondo la scuola di Hitchcock se scrivo bene A poi funziona bene B se scrivo bene B poi funziona bene C non so se il risultato sia soddisfacente però ecco credo questo credo che in entrambi i casi la cosa fondamentale di questi libri sia stata che cosa ho capito di me che cosa è uscito fuori dalle mie mani sento spesso come impressione che siano le mie mani a scrivere prima ancora della della mia testa e poi rileggendomi capisco mi spavento ma anche qui non interpreto detesto interpretare quando si interpreta si sbaglia sempre no è un po come quando si ricorda si sbaglia le cose si confondono rimangono queste immagini le osservo le vivo e qualcosa dentro di me cambia e credo che questo cambiamento che va sottoterra di qui nemmeno mi accorgo simile all'influsso di un farmaco sia la cosa fondamentale della scrittura lo era tanto tempo fa anche se sono giovane però è passato tanto tempo dal mio primo libro e lo è ancora adesso ciao 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 ciao